La gara discutata oggi, premi gentilmente offerti dalla Cristian Erezzi. Davide, un applauso, ecco un applauso. La finale di questa gara è il 13 novembre al Golf di Argenta. Quindi si qualifia la finale, il primo lordo, il primo eronetto di prima, seconda e terza categoria, il primo senior e la prima l'edice. Primo nella categoria signore Arianna Lenzi con... Brava Arianna, brava Arianna. Primo nella categoria signore Valerio Pacini con... Bravo Valerio, molto bene. Valerio. Perfetto, vai. Bravo Valerio. Nella terza categoria, secondo netto Gianpietro Gritti con 32 punti. Bravo. E' il primo netto di terza categoria Renato Peditto con 40 punti. Bravo, bellissimo. Eccolo qua. Arriva, arriva. Eccolo qua. Eccolo qua. Quanto viene a me? Per la pensione. Per la pensione. Perfetto. Seconda categoria, secondo netto Massimo Marzuzzi. Bravo Massimo, bravo Massimo. Grazie Massimo. Complimenti. Massimo. La, perfetto, vai. E primo netto di seconda categoria Bruno Teston con 32 punti. Bravo Bruno. Mettiamolo da parte. Nella prima categoria, handicap da 0 a 11,4. Secondo netto Enrico Pallini con 28 punti. Bravo Enrico. Enrico Pallini con 28 punti. Vai, vai da lì, vai da lì. Enrico, Enrico, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Bravo, complimenti. Facciamo la foto con la mamma, vai. Anche con la mamma, vai con la mamma. Vai, fa una bella foto. La, perfetto, vai, perfetto. Primo netto Renato Cruciani con 29 punti. Molto bene, ma non lo vedo. E primo nel loro, Cristian Damiani con 29 punti. Vai Cristian, eccolo qua. Bravo. Perfetto.